Siamo con Alex Cianci, nuovo capocannoniere in concomitanza con Francesco Di Gennaro a Novereti, sempre più incisivo quanto entra a partite in corso, perché questo? Non lo so, comunque entro, cerco di fare il meglio, sono stati due gol grazie a Ciccio il primo e il secondo grazie a Gianluca, ci alleniamo bene molto tutta la settimana, provando tutti gli schemi, attacco al primo palo, attacco al secondo, quindi siamo sempre preparati su questo tipo di azioni. Comunque sono contento dei miei gol e di ciò che sto facendo adesso. Hai un po' sbloccato una partita che si stava mettendo quasi male, perché eravamo 1-0, il freddo si faceva sentire, il campo non permetteva ai palleggiatori di Lanciano di giocare tanto a pallone. Sei entrato e l'hai spaccata? Ho avuto anche un po' di difficoltà all'inizio, dicendo la verità, perché mi sono scaldato bene, però forse non troppo, perché con questo freddo se non ti scaldi bene rischi veramente di farti male, avevo dolori alle gambe già da prima, ai tendini, all'adduttore. Dopo 15-20 minuti ho cominciato a sentire che andavano e si è visto subito. Hai aspettato una partita così difficile, nonostante vi separino molti punti in classifica? Sì, io ho giocato anche l'anno scorso qui, quindi sapevo dell'ambiente e di come ci avrebbero accolto. Comunque siamo stati bravi anche a tenere la partita sotto controllo anche sull'1-0 e deciderla verso la fine. Poi ci sia stato un allungo sulla tessa, Lanciano a bottino pieno a fine girone d'andata, tutte vittorie. Parte la fuga? Noi pensiamo solo a noi stessi, non pensiamo a nessuna delle squadre, cerchiamo di affrontare partita per partita preparandola bene, così come ci dice il mister, cerchiamo di tirare avanti e vincerle tutte. Ti aspettavi l'impatto tuo da parte tua così importante in questo campionato, in questo nuovo Lanciano? Cioè a fine giornata d'andata capocannonieri? No, a dire la verità no, anche perché le prime giornate non giocavo neanche tanto, quindi è tutta una sorpresa.